Il panorama della nostra casa. Ecco qui il panorama della nostra casa. Guarda là il parco. Di là la chiesa, dietro. Le piante. Il bel panorama. Noi usciamo lo stesso perché qui a Giulianova il coronavirus non è tanto forte. Ah va. Il parco Willermin. Di là c'è la casa abbandonata dove viveva Renato Willermin. Che dopo inventò questo parco. Che nel 1944 fu fucilato. E i comuni qui con il comune di Giulianova. Che inventò la città. Che non mi ricordo come si chiamava. Però c'era il museo di Leonardo da Vinci. Colui che ha inventato la città di Giulianova ci sta la casa abbandonata ancora che non ci si può entrare. Dopo i parchi. E tutta la storia. Anche per il coronavirus. Per il covid-19 qui a Giulianova. Come vorremmo che finisse questo virus. Stiamo pregando molto per Gesù. Il nostro salvatore. Adesso vi saluto. Perché dobbiamo andare sotto. Qua al venere. Faremo un'altra registrazione. Ciao raga. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Dietro questa porta c'è mia madre. Che non avete mai visto. Che in realtà sì. Avete.